numero 5 questo troncarami fiscars ha una forma ad incudine ed è adatto sia a legno secco che duro ha un sistema cremagliera power gear 2 e un diametro di taglio massimo di 3,5 centimetri le lame sono in acciaio temperato con rivestimento antiaderente si adatta sia a mancini che destri mani ha un manico in alluminio estremamente leggero il taglio risulta liscio pulito netto e potente grazie al rivestimento aderente sulla lama ha una lunghezza di 39 centimetri ed è di colore nero e arancione puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 4 questo troncarami prodotto da castellari è un utensile di tipo professionale con battuta curva concepito per il taglio di rami le sue dimensioni sono 84,99 x 29,49 x 3,99 centimetri e pesa circa 998 grammi è realizzato con materiali che lo rendono molto robusto e durevole nel tempo estremamente leggero e maneggevole rende il lavoro più semplice e efficace ideale per piante di media altezza ma anche per rami di piante ornamentali o da frutto in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 questo troncarami fiscars con sistema cremagliera power gear 2 dispone di robuste lame bypass concepite anche per legno verde è particolarmente resistente grazie all'acciaio con cui è realizzato dispone di un rivestimento della lama antiaderente raggiunge un diametro di taglio fino a 5 centimetri ed ha una lunghezza complessiva di 70 centimetri ha un'impugnatura rinforzata in plastica e fibra di vetro si adatta perfettamente al taglio di siepi arbusti e rami di alberi è adatto sia per mancini che destrimani trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 questo modello di troncarami del marchio fiscars con lame bypass per legno verde è ideale per tagliare rami di alberi arbusti e siepi con un diametro di fino a 4 centimetri può essere utilizzato sia da destrimani che da mancini permette un lavoro in altezza senza sforzo grazie al manico leggero con impugnature in plastica ha un rivestimento antiaderente sulla lama per un taglio liscio e pulito permette un posizionamento stabile sul ramo grazie alla controlama uncino ha una lunga durata in quanto è realizzato in acciaio inossidabile la lama è facile da affilare e da sostituire ha una lunghezza totale di 82 centimetri e pesa 1,4 chilogrammi in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 1 questo troncarami del marchio bacco è lungo 75 centimetri ed è realizzato con una lama in alluminio sottile e stretta è molto leggero e maneggevole adatto per il taglio di rami come ad esempio dopo la potatura di piante da frutto ideale per lavori rapidi e ben fatti con minor sforzo ed efficienza pesa circa 1190 grammi e le sue dimensioni totali sono 28,12 x 4,11 x 75,9 centimetri trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione